benissimo benvenuti ora faremo una classica lezione di texturing di mesh con il nuovo blender 2.65 che è uscito oggi in realtà queste cose dovrebbero valere tali quali anche per tutti gli altri blender 2.5 e 2.6 vediamo proviamo a vedere per capire un attimo come si può texturizzare proviamo a prendere semplicemente un cubo anzi prendiamo questo cubo e l'appiattiamo oppure possiamo prendere un piano se vogliamo ci prendiamo cancelliamo shift a aggiungiamo un bel piano quello lì e cerchiamo di vedere come texturizzare questo oggetto texturizzare quindi per texturizzare dobbiamo imparare un po di concetti cioè dobbiamo prima vederlo dall'alto in modo tale da poterlo vedere per bene su questo piano dobbiamo andare a creare il materiale questo è fondamentale in object mode possiamo associarli un materiale quindi vedete new e gli associamo un materiale qui in realtà per i nostri fini che quello poi di creare degli oggetti che vanno poi in second life con l'ada tutte le caratteristiche del materiale qui non ci interessano l'unica cosa che ci interessa è associare il materiale a un'immagine quindi associamo un'immagine qui ci sono delle immagini procedurali ma noi prenderemo un'immagine normale questa e proviamo a prendere come immagine normale dunque questa immagine qua andiamo ad aprire da dal nostro andiamo a vedere un po qui prendiamo ad esempio l'immagine per dire di un vaso ecco questa immagine qua in questo momento sarebbe associabile a questo cubo quindi abbiamo fatto abbiamo preso il nostro oggetto gli abbiamo aggiunto la nostra materiale e poi andando sempre avendolo selezionato in object mode siamo andati qua e gli abbiamo aggiunto questo materiale in realtà questa è solo una prima parte della texturizzazione perché il materiale cioè l'immagine aggiunta in questo modo deve essere per forza associata con una uvmap allora l'uvmap la facciamo e di solito le costruiamo ogni volta che c'è coinvolta una uvmap conviene avere una finestra in più che apriamo dove vedremo le immagini e le uv uv image editor e poi conviene quando lavoriamo con le uvmap andare in modalità edit mode ok dopo di cui andiamo qui in questo object data questo triangolo rovesciato ecco vedete che di uvmap non ce ne sono quindi noi dobbiamo creare almeno una uvmap ok allora vedete che qui ha già fatto una mappatura quindi questa qui senza aver fatto niente lui ha già creato una mappatura del piano è fatta diciamo come gli viene a lui che in questo caso dovrebbe andare perfino bene quindi possiamo anche accettarla così com'è nel senso che torniamo in object mode questo andiamo in nel nostra immagine e accertiamoci che l'immagine venga applicata con quella uvmap quindi andiamo sotto diciamo che verrà applicata con una uvmap e l'uvmap è proprio la nostra uvmap ora a questo punto se abbiamo fatto tutte le cose giuste quindi abbiamo associato un'immagine al materiale che è stato associato all'oggetto poi abbiamo creato una uvmap senza farci niente per vedere se effettivamente si vede qualcosa possiamo fare f12 che fa una foto del nostro oggetto allora se l'effetto f12 ci presenta un'immagine più o meno come ce l'aspettiamo vuol dire che abbiamo texturizzato il nostro piano quindi a questo punto questo piano qua possiamo è già fatto è già pronto possiamo selezionarlo in object mode fare file export con l'ADA e qui esportiamo e qui esportiamo selected only vabbè anche play modifiers anche se qui non c'entra e qui facciamo diciamo che questo qui sia il piano texturizzato base dai ok allora a questo punto possiamo andare nel nostra io qui ho fatto su una sim monastic cioè su una versione di open sim che gira sul mio computer ma voi potete farlo ovviamente su second life o dov'è gli carichiamo il nostro piano texturizzato base qui non lo vedo mi sono ricordato di selezionare solo lui ma dovrebbe essere a posto magari possiamo verificare se effettivamente piano texturizzato 5k potrebbe anche essere a posto tanto il piccolo proviamo a vedere se ce lo carica allora lo proviamo a caricare piano upload altrimenti vedete che avendolo in locale è anche abbastanza veloce contro lì abbiamo questo piano lo proviamo a rezzare eccolo lì il nostro piano come vedete la textur non c'è sotto non si vede niente perché la textur comparirà di sopra quindi dobbiamo fare ancora l'upload della textur quindi facciamo contro lù e gli prendiamo il vaso greco che però qual era? lo ce lo ricordiamo or dando qua dando a vedere come si chiamava 62 e 66 Greek vase andiamo qua 62 e 66 Greek vase quindi tiriamo in su questa immagine upload si finisce il nostro inventory a questo punto la cosa è banale basta trascinare l'immagine sul nostro piano eccolo qua appena si è deciso ed ecco che noi abbiamo texturizzato con un costo diciamo molto basso un pannello a bassissimo impatto adesso il suo pensiero non si vede ma questo oggetto occupa pochissimo anche se a costo adesso probabilmente ecco l'ideale sarebbe stato piccolo suggerimento invece di fare come ho fatto di accettare tutti i default di fare di caricarlo piano texturizzato base punto dae e poi di conservare le caratteristiche precedenti use load above use load above use load above perché tanto c'è pochissimi vertici in questo modo abbiamo un piano resistente ai load perché il load è sempre lo stesso ed è sempre buono quindi io faccio il calculate faccio l'upload me lo trovo qua lo rezzo vedete che è là gli metto la texture sopra come ho fatto nell'altro lo mettiamo se ci riusciremo a metterlo dritto eccolo qua vedete che sto usando anche la grid a questo punto questo oggetto qua togliamo la selezione vedendolo da lontano vedete che questo qui avendogli aggiustato i load non perde risoluzione anche quando l'altro non si vede più quindi l'altro si vede a metà ma questo che gli ho conservato il load rimane tale quale ok questo diciamo è la base della texturizzazione normale prossima volta faremo una texturizzazione invece proprio per esempio di questo vaso e ci vediamo dopo buona serata grazie a tutti